eccoci buongiorno benvenuti appuntamento effervescente oggi lo definirei Martina oggi sulla tematica con l'ospite abbiamo già scaldato un po' sul dietro le quinte questo appuntamento buongiorno Martina ciao tutto bene? Ciao Stefano buongiorno tutto bene buongiorno a tutti allora prima di partire di lasciarti diciamo lo schermo io ti faccio una domanda perché hai scelto oggi questo autore questo libro allora io l'ho scelto perché si parla di salute e come e come non mai oggi è veramente importante quindi oggi non abbiamo solo un autore ma abbiamo un dottore Martina allora 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 scusami posso posso interromperti perché normalmente non posso dire la cosa però ci sono argomenti scaccia ok puntini 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 in questo qua come l'hai messo te argomento scaccia pubblico per cui io direi andiamo immediatamente nella sigla perché già che tu mi parli parliamo di salute cioè il pubblico è già andato volevo aggiungere in modo un po' diverso ok meno male ok perché se no è un argomento scaccia puntini puntini detto questo martina ti lascio la scena io esco di scena ti metto la copertina così inizi con la scheda autore perfetto allora iniziamo con la scheda libro iniziamo bene il mercoledì con un libro legato alla salute dei brand titolo la salute delle brand ai tempi del contagio autore paolo guglielmoni alias il dottor copi editore bug editore che è uno spin off di lupetti editore l'ambientazione allora come ambientazione c'è sempre l'ambientazione classica che è quella del lockdown quindi un'ambientazione un robotica però l'ambientazione interna è molto interessante perché è quella dello studio dell'autore che è tappezzato di libri e di vinili il fatto scatenante allora qui racconto un po un aneddoto perché come fatto scatenante bisognerebbe partire come si suol dire da Adamo ed Eva per fare questa scheda di solito io sento direttamente l'autore quindi in una call o in una telefonata e questa call è iniziata Martina non ho molto tempo perché ho un altro impegno di lavoro benissimo anche io ho un'altra call di lavoro ok perfetto però poi siamo andati anche un po lunghi siamo stati nei tempi ma ce la siamo un po raccontata e dico questo perché il fatto scatenante è un po il riassunto di tutta la sua vita personale e professionale l'intento infatti del nostro autore è quello di come sempre come ha fatto per molto tempo di far passare la filosofia di far passare il suo modo di essere il suo modo di comunicarsi in un modo più vicino al pubblico prima l'ha fatto in Leo Burnett poi adesso lo fa come solo preneur e diciamo che che ci riesce perfettamente la sua missione da buon filosofo è un po una missione maieutica è una missione maieutica perché è quella di far prendere coscienza ai brand di quale sia una comunicazione virtuosa una comunicazione virtuosa è una comunicazione senza patologie la prima soluzione la prima medicina è appunto quella della consapevolezza passaggio più difficile da scrivere direi nessun passaggio perché è un amante della scrittura ma qui c'è una bella sfida per lui perché è quella di mettere da parte il suo ego per poter comunicare al meglio con il proprio target quindi cercare di far passare la soluzione dei problemi per il per il proprio target il capitolo più interessante per il nostro autore sono i vampiri virali due buoni motivi per leggerlo perché non sono opinioni ma sono argomentazioni e perché è orientato all'utilità dice che è sconsigliato vivamente a chi cerca nei libri solo degli aforismi quindi è sconsigliato vivamente ai narcisisti ora passerei alla scheda autore nome dell'autore paolo cognome guglielmoni età 47 anni e mezzo come lo vedono gli altri allora qui abbiamo un personaggio veramente poliedrico per cui non voglio perdermi nulla è filosofo copywriter creative director e consultant è fondatore di razza che la prima agenzia di open network in italia di copyright in d'azione è saggista è traduttore e docente di advertising in lingua inglese allo ulm ed è l'unico creativo italiano incluso nella collezione di arte pubblicitaria del louvre oggi è ed of experience di elsewhere group come si vede lui si vede filosofo si vede creativo e si vede nerd e specifica non necessariamente in quest'ordine la sua ossessione anzi le sue ossessioni sono due sono la carta e la musica quindi libri e i vinili il suo motto è la pubblicità fa bene se la sai fare bene il suo desiderio più grande questo mi piace molto è lo stesso desiderio che aveva quando si è iscritto all'università cioè lasciare il mondo in cui è radicato migliore di quando l'ha trovato stefano io lascio a te la parola e la chiacchiera con il nostro autore ciao paolo benvenuto possiamo fare solo peggio devo dire dopo la scheda di di martina io mi sento in imbarazzo nei fatti questa intervista perché possiamo solo ruminare il bel panorama bel diciamo quadretto dipinto dipinto da martina ciao paolo benvenuto di vinili allora guarda lasciamo diamo spazio ai vinili visto che sei dato che è una delle tue passioni diamo visibilità ho scoperto che c'è anche la lavatrice dei vinili per cui tu prima ce la raccontavi per me assolutamente ignota so che adesso c'è anche quella mi doterò nel momento in cui avrò più vinili rispetto ad oggi ok eccoci paolo benvenuto grazie aver accettato l'invito di questo appuntamento di questa occasione di dialogare intorno ad un libro è sempre un piacere grazie a te allora paolo ti faccio prima la domanda scalda muscoli o scalda ugo la definiamola così te l'hanno credo chiesto tutti 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 ma chiaramente la faccio anch'io non posso esimermi perché utilizzi il termine brand al femminile cioè credo che proprio questa qua la domanda la si dice ok faccio partire il registratore metto sul vinile te lo racconta per un minuto e mezzo e dopo partiamo uso la parola brand al femminile per due motivi uno perché è la traduzione in italiano come dire è la versione il corrispettivo inglese della parola marca quindi essendo lei i prestiti linguistici di solito seguono il genere dell'originale inglese dell'originale italiano per cui marca la marca brand la brend poi anche per un intento diciamo critico di un equivoco e di un atteggiamento ancora culturale molto radicato in italia che è quello di confondere marche marchio quindi spesso capita e devo dire non solo tra aziende anche tra alcuni professionisti creativi e equivocare la marca che è l'identità di valori che un'azienda esprime in comunicazione quindi valori immateriali cioè la marca è come dire il cumulo l'intreccio di qualità non materiali non funzionali ma emotive simboliche narrative eccetera e il marchio che della marca è solo il primo aspetto visibile quindi il loghetto il il claim ecco spesso ti chiedono di fare un lavoro sulla marca pinco pallo e in realtà capisci che vogliono solo il marchietto allora per evitare questo equivoco non diciamo il brand che evoca il marchio ma la brand perché è la marca chiarissimo così abbiamo messo i confini e capiamo di cosa stiamo parlando allora paolo iniziamo un po' di conversazione io andrò per un po per blocchi adesso poi vediamo sai non abbiamo preparato niente ma tanto siamo due che sono capaci di gestirsi una conversazione che può durare anche ora no allora la prima cosa la prima cosa che ho notato aprendo il libro e leggendo proprio la prima parte a parte appunto questa definizione della marca brand eccetera è stato che si è uscito immediatamente dal coro e mi spiego cosa voglio dire prima di andare sui sintomi del dottore eccetera eccetera ma nel periodo covid una serie di brand hanno modificato sostanzialmente la loro immagine il loro marchio hanno distanziato degli elementi per appunto come dire rappresentare il momento che vivevamo io mi ricordo quel periodo in cui post sui social figata bellissima cosa azione eccetera eccetera tu parti lì dal libro dici uno dei sintomi è l'omologazione e sono usciti a omologarsi tutti in quel determinato momento per cui prendendo nettamente dalle le distanze da questa operazione che è stata fatta in quel periodo da anche da grandissimi brand per questo diciamo prendere un pochettino distanze e criticarlo portando verso un'omologazione è stata una chiave lettura interessante sì guarda il la comunicazione è figlia della della società è figlia del del proprio tempo in un tempo come questo in cui soprattutto durante il primo lockdown c'è stata molta paura proprio strizza allora entrano meccanismi di ansia legati alla sopravvivenza cosa succede quando si è si ha paura e il tema è la sopravvivenza si tende all'omologazione perché perché è più funzionale cioè imitare quello che fanno gli altri è una strategia è un automatismo che come dire aumenta le probabilità di sopravvivenza se lo facciamo tutti funzionerà di più se l'ha fatto qualcun altro è probabile che se lo sto facendo qualcun altro è probabile che sia la cosa giusta entrambi in un tema di statistica di probabilità e non di creatività l'omologazione cosa cosa porta porta la non di alla non di al non differenziamento quindi se diverse brand usano esattamente la stessa tecnica creativa lo stesso approccio creativo come fai a distinguerle qual è la loro identità cos'è che le rende rilevanti al pubblico agli occhi del pubblico nulla perché fa le stesse si comunicano allo stesso modo fa le stesse cose guarda da questo punto di vista io sono un disattento ok nel senso che soprattutto quando guardo determinati media vedi la televisione sugli spot mi passano non li guardo e non li vedo non li capisco ma ci sono circa meno tre se non di più pubblicità che sono tutte molto simili nel mondo automotive dove ci sono queste macchine che sembra che devono partire in velocità poi partono lente che sono credo di marche diverse perché le vedo di colori diversi e tutte le varie e tutte le volte dico ma è lo stesso brand che sta comunicando oggi o ci stanno omologando tutti verso dei significati detto questo allora martina ti ha introdotto come un dottore no allora c'è da dire che nella diciamo in questo libro che hai scritto identifichi per fortuna rispetto ad altri virus che abbiamo visti solo due sintomi diciamo che identificano poi dopo la cura è molto più complessa però bello male è identificato due sintomi uno ne hai parlato è quello dell'omologazione per cui ce l'hai in qualche modo già raccontato e dopo quella che tu hai ridefinito viarrea da brand per cui che arriva diciamo dalla logorrea e poi verba la diarrea e poi l'hai ricognato con questo viarrea da brand che mi ha fatto sorridere devo essere sincero sì la via la viarrea e la diarrea verbale cioè quella che tra l'altro è una patologia di cui io sono assolutamente portatore sano non asintomatico sono portatore assolutamente sintomatico sono logorroico orgogliosamente logorroico la diarrea verbale o viarrea è quella patologia per cui una brand non è capace di descriversi in una frase se non è capace di descriversi in una frase vuol dire che non ha le idee chiare vuol dire che non ha chiaro il proprio posizionamento non ha chiara la propria vocazione e quindi questo cosa porta cosa comporta comporta uno sbrodolamento di linguistico uno sbrodolamento creativo e una grande inefficienza in termini di comunicazione quindi con una riduzione di efficacia quindi non ottimizzazione anche dei budget degli investimenti pubblicitari adesso paolo ti do un compito ok allora così mettiamo immediatamente dimostriamo se tu soffri di di viarrea o meno e di conseguenza ti chiedo il libro è un percorso che parte dai sintomi ci sono poi una serie diciamo di indicazioni di azioni da intraprendere per poi arrivare anche ad una soluzione ok per arrivare diciamo una proposta soluzione diciamo un'indicazione della strada percorrere allora adesso ti do un compito io ti cronometro ok in un tempo che decidi tu ok raccontaci questo percorso che è rappresentato all'interno del libro ovviamente di sintesi perché poi magari alcuni temi andiamo ad approfondire perché sennò mi stai quattro ore e lo so già però fai una narrazione del percorso che ci fai fare all'interno del libro così diamo una chiave di lettura di comprensione un po a monte ma vale se sto in silenzio per 30 minuti e poi il libro parte da una considerazione dalla considerazione che non solo l'organismo umano è sano non solo l'organismo umano si ammala e va curato ma anche la comunicazione è un organismo anche la comunicazione va intesa come un percorso vitale come proprio un'organizzazione un ecosistema un organismo vitale che quindi può ammalarsi può sviluppare delle patologie come si fa a curare le patologie prima cosa prenderne coscienza quindi i primi capitoli del libro all'inizio del libro serve proprio a far venire a coscienza quelli che sono le due principali patologie che sono l'omologazione e la diarrea verbale dopo aver preso coscienza delle patologie si inizia il percorso terapeutico e il percorso terapeutico avviene utilizzando quelle che sono le leve creative più efficaci nella storia del mondo nella storia dell'homo sapiens nella storia dell'uomo come animale narrativo e animale sociale allora l'obiettivo terapeutico è quello di creare un metodo il metodo prevede una diagnosi appunto poi una strategia di di cura e poi un l'implementazione di leve creative queste leve creative io ne ho individuate sette sono le sette leve creative più potenti che io ho identificato nell'intero arco narrativo e comunicativo ripeto dell'homo sapiens sono talmente radicate nella nostra natura umana e sono talmente potenti che se non le usiamo con le dovute cautele ci si ritorcono contro per questo io le definisco vampiri vampiri virali perché come i vampiri queste leve creative generano successo generano viralità generano contagio generano popolarità prima di tutto per loro stesse replicano loro stesse a meno che non le ammaestriamo con altre regole creative che sono regole narrative regole di copywriting i vampiri virali ammaestrati attraverso queste regole di copywriting diventano i nostri migliori alleati il copywriting come va usato il copywriting generico no è un copywriting che io ho definito copywriting perché perché tutti gli elementi copywriting sono rivolti alla ispirare azione sono utilizzati come motori come attivatori emotivi delle azioni umane in questo modo si crea un percorso che parte dalla presa di coscienza delle patologie alla strutturazione di un metodo di implementazione creativa l'esecuzione di regole creative e il risultato qual è è una brand che fa parlare di sé non solo in maniera effimera cioè generando un triliardo di live ma senza far succedere nulla ma una brand che fa parlare di sé fa per quello che fa succedere nel mondo e nel mercato e questa è una brand sana paolo esattamente tre minuti e dieci secondi trovo come riferimento poi ti puoi anche migliorare secondo me ma detto questo se vuoi io ti mostro questo commento che è arrivato che contiene comunque qualche spunto interessante se abbiamo voglia di commentarlo soprattutto questo senso di appartenenza al flow del momento che è un elemento che siccome è interessante sotto certi aspetti però forse che appunto o non muogarsi al flow genera sicuramente non evidenza è lungo eh per cui lo so quello lo leggiamo lo leggiamo allora inoltre esiste una necessità di posizionamento oggettivo e più o meno razionale che attraverso ricerche di mercato danno gli elementi chiave che portano il restyling a quasi coincidere allora franz io ti ringrazio perché mi permetti di sottolineare l'importanza della creatività allora eh quello che tu scrivi franz è assolutamente giusto e corretto è proprio così ma è solo un primo pezzo di eh lavoro creativo è il lavoro di mappatura è il lavoro di strategia creativa nel momento in cui eh le analisi portano agli stessi risultati vuol dire che non è stato nemmeno a livello di analisi strategica se accesa alla scintilla creativa perché la scintilla creativa è proprio quella di sviluppare un punto di vista e un punto di racconto specifico su ogni brand quindi se succede quello che tu scrivi è proprio perché diciamo il 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 percorso terapeutico si è fermato a un primissimo livello ma non è andato oltre Paolo adesso io voglio sottoporti un esercizio e vediamo se sempre rimanendo un po' ormai siamo in questa dimensione un po' appunto più o meno terapeutica o legata alle malattie allora vorrei farti fare un esercizio di bipolarità che è che cazzo dici esatto allora tu hai detto no il potere dei vampiri virali eh e appunto hai definito che ci sono sette aree o no sette pillar e nel libro rappresenti molto bene le due dimensioni no quando il vampiro virale diventa eh prende possesso e offusca il brand offusca la comunicazione e quando invece il vampiro virale diventa un alleato allora io facciamo così ti dico la keywords ok e tu in questo gioco di bipolarismo ovviamente lo facciamo veloce rappresenti le due dimensioni lo facciamo per queste sette keywords così capiamo bene in maniera immediata con con della messa a terra con degli esempi pratici che cosa significa eh essere alleato o invece averlo eh volentieri dai non ne ho voglia vai 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 con il polarismo allora io direi la prima che ti metto è humor lo humor è una è uno dei sette vampiri virali e prima di tutto va chiarito che potere esercita lo humor esercita il potere dell'empatia e lo humor al potere di avvicinare ciò che normalmente sarebbe lontano allora pensiamo a a grandi non so il milanese imbruttito ecco il milanese imbruttito humor pazzesco è divertentissimo è una maschera classica la maschera del cumenda milanese divertentissimo molte brand hanno investito nel fare brand placement o product placement nei video del milanese imbruttito ve ne ricordate una no perché io sì devo essere sincero io sì con delle fatture ma perché quella più connessa rispetto a lui c'è capito carino questo è carino cattivella è cattivella allora humor potentissimo avvicina talmente tanto al motore dello humor che tra l'altro è un'altra leva virale un caratter un personaggio del milanese imbruttito e tutto il resto rimane sullo sfondo te lo dimentico altro esempio invece farmaceutico visto che sono la mia ultima evoluzione professionale è stato il meraviglioso ingresso in healthware allora ecco facciamo un esempio farmaceutico aspirina come si fa a esprimere un vantaggio terapeutico farmacologico di di un aspirina più potente dell'aspirina normale con lo humor per cui c'è stata qualche anno fa questa campagna divertentissima dell'aspirina in cui prendeva la stessa frase e la usando la figura retorica dell'estraniamento cioè la spostava di contesto creando un grande effetto ironico e umoristico che ne so papà ho bisogno di soldi il tuo il tuo figlio di 13 anni o il tuo figlio di 50 anni le conviene prendersi un avvocato il tuo avvocato o il tuo amico ok cioè se il tuo amico a dire ti conviene prenderti un avvocato è un mal di testa leggero se il tuo avvocato che ti dice ti conviene prenderti un avvocato è un mal di testa pesante allora una performance diciamo un'efficacia farmacea farmacologica raccontata tramite la leva dello humor diventa molto efficace e avvicina al pubblico a un argomento normalmente distante come la farmacologia qual è la differenza qui è la call to action cioè la chiamata all'azione qui l'azione il vantaggio finale è estremamente esplicito hai un mal di testa più pesante da curarti cioè e usano la rogna la seccatura come metafora del mal di testa metafora umoristica e c'è l'aspirina giusta per te un altro di questi è lo shock che che è complesso sotto molto più complesso del humor sotto certi aspetti perché male che vada nella parte humor se se la cani come dire non è l'effetto ovviamente comunicazione lo shock può anche generare ovviamente anche negatività importante guarda lo shock humor e shock sono diciamo nei sette vampiri sono quelli più diciamo a più ampio spettro d'azione mentre lo humor al potere eserce il potere dell'empatia quindi dell'avvicinamento lo shock eserce il potere dell'attenzione perché perché se io faccio così tutti attenti cioè c'è un picco di adrenalina lo shock proprio come dire è un hacking biologico narrativo biologico della nostra struttura senziente e comunicativa per cui si crea un picco di adrenalina che ci fa stare attenti subito chiaramente questo picco d'attenzione è talmente biologico che il pubblico rischia di diventare schiavo della propria biologia di essere posseduto dalla propria biologia e di non accorgersi tutto il resto ricordo qualche anno fa c'è stato questo video che è diventato molto virale su youtube che si chiamava devil baby non so se magari il pubblico se lo ricordo oppure può googlare andarlo a vedere c'era è stato un prank c'è uno scherzo una presa in giro shocking fatta a central a new york qui c'era questa carrozzina questo audio animatrone questo bambino questa carrozzina con questo bambino dentro che però era un era l'anticristo per cui questo bambino saltava fuori e vomitava verde urlava un aspetto satanico demoniaco spaventoso shocking questo video è diventato super virale talmente virale che ha offuscato il film di cui doveva essere la pubblicità cioè il film che era l'ennesimo film sull'anticristo non l'ha visto nessuno il video shocking è diventato virale e questo è il negativo il positivo nel bipolarismo il positivo beh sono le campagne storiche di oliviero toscani per benetton oliviero toscani è stato un maestro di pubblicità shocking e la prima che mi viene in mente che tra l'altro citata anche nel libro sono i tre cuori messi uno di fodi di fianco agli tre proprio muscoli cardiaci tre cuori che so che è scioccante vedere l'interno del proprio corpo vedere un organo così è infatti è anche una te è un genere horror no il per dire abbiamo non importa a prescindere dalle razze abbiamo tutti la stessa biologia siamo tutti esseri umani allo stesso modo united colors of benetton allora anche in questo caso per quale differenza tra l'uno e l'altro è la differenza come per come prima è la ancora la call to action cioè cos'è che voglio che il pubblico faccia qual è il messaggio operativo performativo che sto estendendo al mio pubblico nel caso di oliviero toscani è cambiare atteggiamento e riflettere sulle differenze fittizie e sui bias culturali che ci affostano. Adesso la prossima è diciamo sulla bocca di tutti tutti i giorni team diciamo dell'influencer basta barra delle celebrities io ho sempre avuto un po' l'impressione ultimamente a parte alcuni chiaramente alcune operazioni che afferiscono al mondo celebrity e soprattutto al mondo influencer che tante volte sia il brand la brand permettimi scusami la brand che fa da traino all'influencer che viceversa cioè ho avuto la sensazione che tante volte si giova della diciamo della partnership più l'influencer per cui cresce nei follower si fa vedere aumenta la sua posizionamento di mercato in termini di capacità di vendere a valori diversi eccetera eccetera più che il ritorno che ha verso l'impresa verso appunto la brand. Allora la celebrità o l'influencer allora la celebrità è che proprio nasce con le celebrità hollywoodiane quindi il pantheon cioè la celebre lo statuto divino cioè la celebrità è come un dio greco cioè è un dio dalle fattezze umane quindi è talmente lontano fa cose talmente magnifiche che noi desideriamo essere come lui o lei o entrare in contatto con lui o lei allora il potere della celebrità è proprio quella del desiderio l'influencer ha azzerato l'influencer è una celebrità chilometro zero anzi la bit zero perché il modo più facile per entrare in contatto con questa celebrità è quella di seguirla su instagram o seguirla su clubhouse è molto più facile entrarci in contatto quindi il desiderio si modifica non è un desiderio che ci in qualche modo spinge ci muove a elevarci ma è un desiderio già come dire predigerito perché è il desiderio verso qualcuno o qualcuna che fa già parte del nostro universo del nostro mondo del nostro microcosmo l'influencer in particolare una cosa che io sottolineo sempre con i clienti con i miei studenti e anche nel libro cito l'influencer è un canale media cioè l'influencer è un canale media nel senso che allora quando un in televisione no quando si si valuta si valuta su che rete televisiva far passare uno spot televisivo si valuta ovviamente la composizione del pubblico di quella rete allora l'influencer è la stessa cosa l'influencer come fosse un canale media un canale social media che ha già un tot numero prestabilito di spettatori di utenti allora la branda le aziende sono molto interessate a questo perché chiaramente se attivano un influencer quindi si attivano questo canale media e attivano un canale che ha già degli spettatori dentro quindi non devono andarsi a cercare degli spettatori non devono guadagnarseli se li trovano già lì negativo e positivo negativo questi spettatori non sono gli spettatori della brand sono gli spettatori dell'influencer o della influencer per cui la brand rischia di validare l'autorevolezza la credibilità e la popolarità del canale se ci va anche questa brand così famosa beh allora un canale ancora più valido è un processo di validazione del canale e quindi dell'influencer per cui l'influencer che ha un potere comunque enorme perché ripeto il potere del desiderio lo rende più accessibile per cui se prima per entrare in contatto con i metallica io dovevo piazzarmi sotto il loro hotel col sacco a pelo aspettando che questi la mattina dopo uscissero a sgranchirsi e a stiracchiarsi e io sotto così adesso non devo neanche fare la fatica quindi come dire questo potere del desiderio è un potere molto facilitato ecco allora in questo potere è talmente facile da esprimersi e da trovare terreno nel pubblico che già in contatto con l'influencer e che la brand scompare cioè l'acqua della ferragni per intenderci pochissimi se si ricordano sanno che era evian che la brand era è evian la brand diventa l'acqua della ferragni cioè la gente quando la comprare non l'ha chiesto l'edian con la bottiglia disegnata ecco col logo di chiara ferragni chiedere l'acqua della ferragni punto quando invece una brand riesce a ammaestrare il vampiro il celebrito influencer allora vengono quelle meravigliose ad esempio pubblicità con che vediamo ad esempio al super bowl pensiamo a non so tide con david arbor di stranger things ok o pensiamo ad esempio a le attività microsoft con jay-z ok per il lancio per la promozione dei motori di ricerca bing ecco allora quando c'è uno studio proprio metodologico e scientifico della composizione del pubblico dell'influencer e l'influencer viene utilizzato non come collettore di pubblico ma come motore per far fare al pubblico qualcosa ecco allora che il vampiro viene maestrato e la brand ne trae beneficio paolo provo a farti questa domanda puoi tranquillamente non rispondere e ovviamente non voglio entrare nei giudizi nelle opinioni personale eccetera però quello che tu ci hai rappresentato l'abbiamo visto applicato in un'attualità recentissima degli ultimi giorni e ti dico tre keywords primo maggio rai fedez senza ripeto andare a nelle questioni che che non afferiscono a noi questa triade in questo concetto del vampiro chi ha vampirizzato chi e che cosa è successo o se vogliamo in qualche modo provare a ragionarci sopra per dare un'indicazione di questi di cosa succede se se mal gestisci un 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 vampiro come in questo caso c'è un influencer che doveva chiaramente dare valore a un sistema ma che poi ha ribaltato un po tutto è un argomento molto come sono il dottor copi voglio utilizzare un atteggiamento di distacco critico e quindi applico il metodo genealogico andiamo a vedere se fedez e come dire anzi il ferragnez perché di fatto fedez la sua consapevolezza social media non credo sia casuale che sia risultata improvvisamente così potenziata da quando come dire fedez si è evoluto in ferragnez andiamo a vedere se ci sono dei casi nel passato analoghi che possono farci sospettare o comunque individuare una ricorrenza quindi un pattern pensiamo a quello che è successo con chiara ferragni e la denuncia del codacons per l'esa maestà quando è stata ritratta dall'artista vezzali vezzoli scusami il come madonna come vergine maria appunto ecco allora i meccanismi virali funzionano perché è come l'evoluzione cioè sono meccanismi talmente radicati che non si possono contestare come con te come giudicare l'evoluzione è qui funziona c'è vanno saputi utilizzare fedez al mio applauso perché li sa utilizzare benissimo fedez e ferragnez li sanno utilizzare benissimo si sanno utilizzare molto meglio evidentemente questo non è un giudizio ripeto è fenomenologia è cronaca è osservazione della realtà è evidente che li sanno usare molto meglio di chi li critica al punto che chi li critica fa il loro gioco perché sono loro gli influencer sono loro le celebrity grazie per rendere impervio mi rendo conto allora prima andai verso la chiusura c'è un tema come scusami ho messo gli scarponi da trekking infatti ho visto ne sono anche la muta e messo una serie di protezioni per evitare qualsiasi contaminazione strana allora c'è un tema che mi sta molto a cuore che il tema innovazione anche questo è presente nel libro per cui il vampiro dell'innovazione e chiudiamo con questo anche perché sennò poi raccontiamo tutto il libro e non c'è più la curiosità di andarlo solo a leggere l'innovazione è un vampiro a cui io voglio molto bene sono molto affezionato perché è il vampiro del wow dello stupore infantile io essendo un nerd senza ritorno un nerd a senso unico tutto ciò che è innovazione tutto ciò che mi permette di soprattutto legato alla tecnologia l'innovazione tecnologica in particolare ecco arthur c clark l'autore di 2001 di sia nello spazio diceva che la tecnologia a un certo livello di innovazione di evoluzione è indistinguibile dalla magia e questo stupore infantile che è meraviglioso tu vedi qualcosa io ricordo quando steve jobs ha presentato il primo iphone quando pop ha fatto scorrere il dito sullo schermo il primo schermo tattile esistevano già ok però il primo schermo tattile presentato al grande pubblico diventato mainstream wow è proprio uno stupore mi sono sentito come non so leonardi big bang theories proprio totalmente posseduto dal da questo piacere dello stupore del wow ecco è talmente potente questo stupore che tende a come dire incatenarci all'oggetto tecnologico quindi perdendo di vista quello che è l'utilità dell'innovazione allora lino in questo senso negativo l'innovazione corre il rischio di diventare un giochino ci sono a volte delle pubblicità che o delle aziende che abbracciano l'innovazione no il problema è che poi il pubblico si limita a giocare con le innovazioni proposte una nuova app una nuova interfaccia grafica un nuovo packaging addirittura allora quindi e si ferma lì cioè diventa un giochino interessante però la brand non ne ha un reale guadagno perché perché non è chiara l'utilità non è chiaro il valore non è chiaro cosa l'innovazione dovrebbe servire a cosa dovrebbe servire mentre altre forme di innovazione che magari non sono innovazioni atomiche fantascientifiche però sono innovazioni non solo nel cosa ma nel come si fanno le cose vincono esempio gopro gopro non è la più innovativa microcamera però è la microcamera che esattamente come l'iphone d'altronde che ha reso popolare non tanto l'oggetto in sé ma quello che ci puoi fare l'esibizionismo è una tele che è una microcamera che permette a tutti noi di sfogare di esprimere questo istinto esibizionista che tu che la maggio non tutti ma la maggior parte di noi soprattutto di noi che siamo online che siamo sui social vogliamo esprimere per cui gente che corre in nel parco qui a piacenza o a milano con microcamere gopro attaccate addosso e poi postano il video di loro che corpore c'è questa soggettiva questo punto di essere soggettivo che così epiche così wow è così ecco questa innovazione che ti puoi appiccicare addosso delle microcamere no ecco questo è un esempio di quello della differenza tra l'innovazione giochino e l'innovazione motore di comportamenti paolo facciamo entrare martina cosa dici si è stata lì cioè che ci sta aspettando ci aspettano ci sta aspettando da mezz'ora e siamo anche un po' maleducati a questo punto direi facciamola entrare lì che bussa 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 ma noi la stiamo lasciando là fuori e invece eccola qua ciao martina ecco grazie questa volta a posto del whisky volevo portarvi un altro caffè perché non siamo sufficientemente no 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 volevo portarvi un altro caffè perché mi piace mi piace vedervi chiacchierare insomma c'era una bella intesa non volevo interrompere questo situazione idilliaca però mi tocca ecco vai vado stupisci paolo con una domanda di quelle che lo mette a terra non penso però è una una piccola curiosità paolo e mi voglio anzi ne ho due ecco premetto questo mi voglio riferire a quando nella nella scheda libro ho detto ad un certo punto che la tua sfida è quella di mettere da parte un attimo il tuo ego e di utilizzare un linguaggio che possa essere comprensibile ecco quanto nel copywriting è importante utilizzare la leva del linguaggio cioè anche in questo caso che sia una una buona medicina che sia qualcosa di efficace che non sia un vampiro perché è impregnato un po da dall'egoismo è un po dal dal legocentrismo grazie la domanda perché in effetti mi per me essendo un egotico un portatore sano di egotismo mi permette di esprimere quello che il mio punto di vista sul coppia nanti allora le parole dovrebbero non come dire essere oggetti trattate come oggetti dai copywriter oggetti con cui giocare e con cui compiacersi spesso capita che i copywriter si compiacciono la cosa che tutti i copywriter anch'io è un passaggio evolutivo è quella fase in cui ti compiaci di quello che scrivi di della tua idea creativa del tuo pensiero creativo il passaggio evolutivo successivo che io auspico è quello in cui invece il copywriting invece di dire lascia emergere quello che c'è già nella brand o nel prodotto allora per fare questo il linguaggio va usato con un esercizio diciamo non come dire impositivo impositivo da imporre non in positivo negativo cioè impongo il mio costrutto creativo il mio costrutto linguistico il mio costrutto di copywriting all'oggetto al prodotto alla brand e quindi poi vado a presentarlo al cliente il cliente non ci si riconosce e si crea una situazione antagonistica perché io creativo devo litigare col cliente dicendo ma come fai a non capire questa meravigliosa cosa che ho scritto ecco il cliente che ti dice ma non mi ci ritrovo ma no ma sei tu che non capisci una fava quando invece il copywriting è utilizzato come metodo per far emergere attraverso il linguaggio attraverso un esercizio retorico anche quello che già c'è nella brand o nel prodotto nella mia esperienza il cliente ti abbraccia perché il cliente ci si ritrova il cliente il tuo al cliente restituisci quello che lui sa ma non sa raccontare e quindi il cliente ti è grato perché è grato a un professionista che è riuscito a raccontare quello che lui istintivamente sa ma non saprebbe raccontare e che ti paga per quello perché lo faccia tu bene grazie Paolo e l'altra domanda è vediamo se sei preparato se hai dei libri che ti hanno ispirato e che vuoi restituire a chi ci sta ascoltando allora questa domanda devo dirlo per onestà è preparata perché se fosse stato a bruciapelo mi avreste visto no poi te le faccio io una bruciapelo sapilo ok no soltanto da divoratore di libri sono tantissimi per cui anzi sono stati Martina e Stefano sono stati molto gentili e umani che mi hanno permesso di prepararmi ve ne cito tre allora il primo che tra l'altro l'ho riletto recentemente è la qualità umana di Aurelio Peccei Aurelio Peccei è stato uno dei più grandi italiani del novecento torinese è stato prigioniero politico perché era un partigiano ed è stato prigioniero poi salvato in extre torturato salvato in extremis dai suoi compagni perché rischiava veramente di lasciarci la pelle ha fatto una carriera imprenditoriale meravigliosa in Fiat in Olivetti e durante questa carriera imprenditoriale lui però non ha mai perso di vista l'umanesimo quella che lui definisce la qualità umana sono le qualità migliori umane che sono quelle che permettono di muoverci in avanti Aurelio Peccei guidato da questa visione ha fondato il Club di Roma il Club di Roma è stato quel consesso esiste ancora ma è l'ombra di quello che era quando era vivo Peccei è stato quel consesso di menti ma spalmato in tutto il mondo che ha diagnosticato per la prima volta e parliamo il primo report del Club di Roma è che si intitola Limits to Growth i limiti dello sviluppo è del 1970 Claudio Roma è nato nel 68 è il primo studio capillare scientifico in base alla nascente statistica scienza statistica sociale dei limiti dello sviluppo economico incontrollato e il male che avremmo fatto al pianeta è noi stessi cioè la base di tutto il pensiero ecologico seguente e quindi questo è stato veramente un pioniere del pensiero umanistico concreto era una persona, era proprio un talento, un genio rinascimentale Aurelio Peccei il secondo libro che cita è un libro americano di Neil Postman che si intitola Technopoli c'è anche in italiano Technopolio, tradotto in italiano Technopolio Neil Postman è un grandissimo educatore del fondatore del Media Lab è un centro di studi dei media ed è un po' come dire sulla scia di McLuhan di Marshall McLuhan e in questo libro Technopolio lui analizza il potere vampiresco potremmo dire che la tecnologia ha avuto e ha tuttora sui media, sulla cultura e sui comportamenti ed è un punto di vista sia storico che filosofico che sociologico ma è scritto benissimo, c'è proprio una penna meravigliosa Neil Postman per cui è veramente una lettura molto piacevole ultimo, beh, grande mito mio, John Cleese, leader dei Monty Python nonché grandissimo autore, sceneggiatore, comico, mito della comicità ha pubblicato recentemente un libretto piccolino molto piacevole che in italiano non è stato prodotto, ma non lo so se non è stato prodotto comunque insomma in inglese si chiama On Creativity A Short and Cheerful Guide quindi una guida breve e brillante e lui esprime questa sua visione della creatività e dimostra come la creatività, dimostra e mostra come la creatività sia nemica della fretta anzi, come la fretta sia nemica della creatività secondo me questo libro io lo consiglio a tutti i direttori creativi d'agenzia che ancora credono che la creatività migliore riesca fuori quando si mette il pepe al culo ai creativi ecco, uno dei più grandi geni creativi del Novecento che ha raggiunto i più grossi successi ha raggiunto lo status proprio di divinità della creatività e della comicità racconta come questo non sia vero la creatività si nutre di tempo debito relax e bisogna lasciare il tempo al nostro inconscio e come dire di rielaborare quello che pensiamo quello che sviluppiamo in maniera da come dire essere una creatività capace di toccare le leve inconsce ed emotive del nostro pubblico grazie Paolo bello Paolo ti chiedo questa cosa adesso siccome da quando abbiamo iniziato la live che io guardo il tuo background e vedo tanti DVD, CD eccetera eccetera ti chiedo questa cosa adesso tu ti giri e prendi due CD o due DVD a caso così ti conosciamo nei tuoi gusti vediamo se ti presta questa cosa a caso eh non andarla a scegliere a caso dai a caso dai prendo allora prendo un CD di musica classica è uscito fuori Schumann leader tardo romantici di Schumann Frauen lieben un leben e dich verliebe vite amore di una fanciulla e amore di un poeta da amante della parola e del suono i leader anzi tardo romantici per me sono una goduria immensa perché la parola recitata e la parola cantata con accompagnamento pianistico è veramente un piacere enorme secondo è venuto fuori vinile ok è venuto fuori The Swans che sono un gruppo post punk americano nato nato metà anni 80 tuttora in attività e loro hanno sono capaci di far risuonare il rumore e trasformarlo in canzone quindi è davvero un bel ascolto diciamo che sono venute fuori due cose molto vicini perché i lead tardo romantico e la canzone noise diciamo che c'è un filo che conduce i due quindi diciamo c'è una sua coerenza incontra grazie di aver accettato questa provocazione perché credo che abbia dato comunque un abbia un po' fatto da chiusa anche di conoscenza del personaggio Paolo io ti ringrazio a questo punto siamo andati abbondantemente oltre il nostro impegno di stare all'interno diciamo dei 40 minuti per cui grazie ancora Paolo e sicuramente siamo in altri momenti di riflessione ciao 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 state bene ciao ciao Grazie a tutti.